Questo video riguarda i migliori tre elicotteri radiocomandati. Il vincitore della qualità è il Jedar GCZ K300. Avvitatore super simulazione. Prendete l'elicottero multiuso nero come prototipo, per ridurre la tecnologia di simulazione, ingegniosamente progettato e regalate un'esperienza di volo diversa. Cabina di simulazione super simulata. Telaio in alluminio, robusto e bello, superficie curva, parabrezza ad alta trasmissione della luce, tecnologia unica di formaggio, trasmissione ad alta definizione e l'interno della cabina è libero. Il percorso è rosso a sinistra e verde a destra. Si basa sul principio del vero design a macchina, in modo da non avere paura di volare di notte. Viene fornito con un supporto in alluminio che può essere collegato o esposto in volo, ruotato, sollevato, abbassato e smontato. Dotato di ruote universali, 360 gradi liscia universale. Può essere utilizzato come decorazione, fai date o come regalo per gli altri. ETA 14+. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Tengod Yuxiang Y-XZNRC. Il modello di elicottero 1A47 massimizza l'aspetto dell'elicottero americano UH-60 e presenta un aspetto e dettagli altamente simulati, tra cui luci fantastiche. L'elicottero con posizione di volo stabile, veloce e precisa è stato costruito con tecnologia di controllo remoto a 2,4 GHz per aereo artistico omni-tragante 6G-3D e giroscopio a 6 assi ed è adatto ai principianti. Nessun design del timone trasversale e motore brushless rendono l'elicottero autoportante per ridurre il rumore, grande momento torcente, abbastanza potenza ed alta efficienza. Addio al sovraccarico e alla scarica grazie alle batterie 3S e gli ad alte prestazioni professionali con la funzione di indicatore di bassa corrente e altri per una lunga durata. Il modello di elicottero consiste in un processo di stampaggio di calce a caldo sul buscio ed è dotato di un corpo infrangibile, una testa rotore CNC e un disco oscillante AS per una struttura ottimale, peso ridotto e possibilità di danni ridotte. Il vincitore del premio è l'Aured 6. Progettare le lame con i principi aerodinamici per fornire un forte potere e il corpo di autostabilità. Usa 1106 rotazione esterna motore brushless per il potere più potente, 3.7 V500 ma 25C della batteria di grandi dimensioni rate. Integrazione 3D e 6G punto il telecomando può essere commutato liberamente. 3D modalità utilizza un giroscopio a tre assi che è sensibile punto può fare acrobazie, può facilmente rendere rotolo, volo rovescio, uragani, pendolo e altre azioni. La modalità 6G utilizza un giroscopio a sei assi e il volo è stabile, particolarmente adatto a principianti di volare. 6 canali telecomando, dotato trucco 3D interruttore IDOL, acceleratore interruttore 17esimo punto hold attesa, display LCD grande schermo, allarme di bassa tensione e altre funzioni punto specialmente impostare il punto di overing del velivolo. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.